Buonasera a tutti, possiamo cominciare? Siamo anche in perfetto orario, mi sembra, più o meno, sì. Mi presento, sono Fabio Chiusi, sono giornalista e ho la fortuna di essere qui a introdurre la professoressa Nadia Orbinati. Volevo soltanto dire qualche parola, diciamo, introduttiva, così per contestualizzare, per portare un po' chi ci ascolta, per capire un po' dove vogliamo andare a parare con questo incontro. Siamo nel paese giusto per chiederci i limiti e le opportunità della democrazia digitale o internetiana, che dir si voglia. In questo paese, in Italia, diciamo che per la prima volta un movimento nato e sviluppato in rete ha ottenuto un quarto dei voti espressi a delle elezioni politiche, anche se oggi sono ridotti a un quinto con tutte le polemiche che abbiamo sentito. E' qui che quel movimento sperimenta quotidianamente, diciamo, un tentativo di praticare davvero quella visione della democrazia, una particolare versione, diciamo, della democrazia digitale, che il suo ideologo Gianroberto Casaleggio chiama iperdemocrazia, e che come vedremo rappresenta, diciamo, per la nostra relatrice Nadia Orbinati, che poi introdurro meglio, è una forma di democrazia indiretta, se vogliamo, una definizione che ha dato anche il titolo a un suo recente volume per Feltrinelli. Che cosa consiste questa democrazia indiretta? Nell'introduzione di elementi di immediatezza, scrive, all'interno del nucleo della democrazia rappresentativa, insieme la riproposizione dell'idea di un autogoverno diretto, che non è certo nuova, prendendo a bersaglio i due grandi protagonisti della mediazione tra cittadini e istituzioni, che sono la carta stampata, come sappiamo, e i partiti, quindi anche la mia categoria professionale, tra l'altro. Ed è sempre qui che, come ho cercato di mostrare nel mio recente, diciamo, critica della democrazia digitale, che è un libro che se volete trovate anche fuori, abbiamo testimoniato, e speriamo di testimoniarne altri in futuro, diversi interessanti esperimenti per implementare queste nuove, inedite, se vogliamo, forme di deliberazione aumentate dalla rete. Per esempio, quelle liquide, tramite software Liquid Feedback, che è stato utilizzato dal candidato Umberto Ambrosoli, alle scorse regionali, quello usato alla piattaforma tuparlamento.it, che è stata usata da Laura Puppato e da altri 15 parlamentari, se non erro. Entrambe le esperienze sono coordinate, tra l'altro, da un'altra relatrice del festival, che è Fiorella Decindio, che è in una stanza qua vicino, ed è stato usato anche dagli attivisti locali del Movimento 5 Stelle, non senza polemiche, tra l'altro, Grillo e Casaleggio, che in realtà li hanno più giocato contro che a favore. L'ulteriore fortuna per cui si trova qui oggi è che siamo anche con la persona giusta per ragionare su questi limiti e queste opportunità. E qui vorrei introdurre un po' Nadia Orbinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York, editorialista, tra le altre, di Repubblica, autrice di svariati saggini italiani e inglesi sui temi che affrontiamo oggi, e solo per ricordarne alcuni tra i più recenti, democrazia rappresentativa, sovranità e controllo dei poteri, liberi e uguali contro l'ideologia individualista, la mutazione anti-economitaria. Non solo, diciamo, Nadia osserva da tempo il volto mutevole della democrazia contemporanea, non solo vede in quel volto ciò che lo sfigura anche, ovvero il populismo, le derive plebiscitarie, l'inganno che la politica possa ridursi, se vogliamo, a scienza, a episteme, la tecnocrazia, che è quello che abbiamo visto negli ultimi anni ed è stato molto criticato anche negli ultimi anni, come scrive in Democrazia Sfigurata, che è il suo libro più recente, peraltro l'ha detto da Egea. Qui è un monito, diciamo, è una cautela dai facili entusiasmi che, eppure, si sono molto letti e che troppo spesso animano il nostro dibattito su questi argomenti. Invece la professoressa Urbinati ragiona sul tempo, da tempo e con profitto, proprio sugli effetti della diffusione di massa di queste tecnologie di rete, sull'idea stessa di democrazia e sulle prassi, che questo è molto importante, democratiche, cioè su come facciamo democrazia tutti i giorni. E qui c'è un passaggio da un bel saggio della professoressa Sureset, per il momento, dice, possiamo affermare che la democrazia internetiana, insieme al ritorno dell'utopia della democrazia diretta, e questo è un inciso mio, diciamo, questo ritorno che sembra riportare in auge l'ideologia quasi della Silicon Valley dei primi anni 90, questa ideologia che, diciamo, si era affermata all'inizio degli anni 90 sull'onda della commercializzazione di internet, del diventino commerciale di internet. E dunque ha nuove speranze di effettivo coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica e nel controllo dei governati sui governanti, che questo è il vero aspetto che, secondo noi, secondo me, potrebbe vedere internet capofila, no? E questa è anche un po' l'idea che sta dietro molti delle proposte del Movimento 5 Stelle, cioè di ridare al cittadino la partecipazione nel senso di fare il cane da guardia del potere. Questa è l'idea. E questa democrazia internetiana, si diceva, sta correndo il rischio, scrive Orbinati, di alimentare politiche identitarie e populismo e promuovendo una politica che esclude e discrimina, e questo è molto importante, visto che la retorica imperante dice tutto il contrario, invece di accrescere la partecipazione e la diffusione del potere. Non che questi problemi siano nuovi, diciamo, la dittatura della maggioranza, i limiti all'accesso degli strumenti necessari per esercitare i propri diritti democratici, e anche su internet c'è il digital divide, anche se sappiamo dagli ultimi rapporti che quello infrastrutturale è quasi colmato, dal punto di vista della connettività nuda, diciamo, poi la velocità è un altro discorso, resta il digital divide culturale nel paese, cioè bisogna poi saperle adoperare queste tecnologie. Liquid feedback è molto complicato da questo punto di vista, per esempio, anche se si può combinare a usarlo, insomma, ecco, si può riuscire a usarlo. Tutte queste sono questioni non certo nuove, ma vengono aggiornate, affrontate da Professor Saurbinati all'era dell'iperconnessione, l'era indiretta, appunto, cioè di un istantaneo che spesso mal si concilia con la complessità della politica e del mondo della crisi culturale ed economica che viviamo, è un mondo in cui sappiamo, appunto, uno dei libri più dibattuti in questo periodo è quello di Pichetti, appunto, che riporta al centro del dibattito economico il tema delle disuguaglianze crescenti, ma è una crisi che forse è anche e soprattutto di democrazia e qui i segnali sono molti, cioè l'astensionismo che cresce, la fiducia nei partiti e nel Parlamento che ha i minimi storici, il rapporto Demos, gli italiani nello Stato 2013, che dice che un terzo degli italiani è indifferente rispetto alla differenza tra democrazia e regime autoritario e in alcuni casi appare addirittura preferibile quest'ultimo, come se si potesse fare in ottica utilitarista, diciamo, si potesse semplicemente dire sì, beh, ottiene più risultati in un regime autoritario, chi se ne frega, non è una grandissima argomentazione. Anzi, questa è una crisi che investe, e questo lo scrive bene la professoressa, che investe più le democrazie consolidate e mature di quelle giovani incerte, anche questo è un altro fattore che fa riflettere, secondo me. Ciò non significa che non ci siano elementi di novità, appunto. Uno degli esempi che porta la professoressa Orbinati è quello della Costituzione Islandese, che si è tentato di riscrivere dal basso, in maniera collaborativa, anche grazie a internet, usando il metodo del sorteggio, che è un metodo tradizionale delle forme di democrazia diretta, e osserva, diciamo, è una di quelle forme che però, nonostante tutto, nonostante sia un modello da seguire, perché effettivamente lo è, è stato un procedimento molto interessante e molto democratico in ogni passaggio, ha purtroppo fallito per ora, perché il Parlamento poi islandese aveva detto che l'avrebbe discusso e la politica invece l'ha accantonato. E qui ritorna di nuovo il tema di capire come la politica poi reagisce anche a queste nuove forme di deliberazione. Per cui, come scrive ancora Orbinati, dice, la democrazia via internet sembra annullare la distanza tra cittadini e istituzioni e rilanciare la cittadinanza diretta, e invece genera nuovi livelli di mediazione e di potere, per ora meno controllabili, e questo è un passaggio fondamentale secondo me, di quelli in uso nei partiti, perché senza statuti, organi dirigenti eletti e regole di partecipazione e decisione. È un vuoto, non sappiamo che cosa sia questa cosa ancora. E quindi bisogna, viene un po' da chiedersi se la soluzione stia in queste nuove forme di partecipazione o invece no. E diciamo che, per chiudere, prima di passare la parola alla professoressa Orbinati a cui ho già rubato troppo tempo, penso che già vi ricordare alcune parole di Vittorio Foa, molto belle, scritte in quello splendido diario di intuizioni che è Passaggi, datato inizio anni 90. Nel 93 scriveva, della democrazia diretta, non si riuscirà mai a liberarci, perché essa vive come ineluttabile contestazione del rappresentante da parte del rappresentato, piuttosto che opposte, quindi, queste due forme di democrazia, e questo lo dice ancora sempre molto bene la professoressa Orbinati, sono legate, e la diretta addirittura come suo presupposto, scrive Foa, alla rappresentativa, e del resto, conclude sempre Foa, senza la verifica della contestazione, la democrazia rappresentativa morirebbe nella palude della burocrazia. E questa verifica e questa contestazione oggi ci sono, vediamo e cerchiamo di capire insieme se è possibile metterla a frutto per migliorare la nostra democrazia. E con questo vorrei passare la parola alla professoressa Orbinati. Beh, questa è già la lezione. Grazie moltissimo per essere qui e per avermi invitato ancora a venire a Trento, questa bellissima città e grande festival dell'economia, sempre pieno di spunti molto interessanti. Dunque, io avrei pensato di organizzare la mia presentazione in modo da lasciare anche spazio all'interazione, alle domande, quindi senza essere così logorroica da occupare tutto lo spazio, sempre stando all'interno, coerentemente all'interno di questa idea di democrazia indiretta, ma mai, insomma, troppo occupa, che occupa tutti gli spazi, ecco, apprezzare sempre di più l'indirettezza e la separazione, qualche volta, dagli spazi di decisione, dai luoghi di decisione, e io cercherò di essere coerente a questo. Allora, la domanda che mi sono posta preparando questa lezione è la seguente, che è venuta molte volte, è ritornata molte volte nel discorso dell'opinione, nei dibattiti durante questa campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. È vero che internet rende o renderà o può rendere la democrazia più democratica, cioè la democrazia che conosciamo noi, che è fatta di rappresentanti eletti, ogni qualche anno, in alcuni casi cinque, in alcuni casi quattro, in alcuni casi anche meno, due, quindi quanti anni è importante, è un elemento importante nel definire più o meno una democrazia rappresentativa. Appunto, questa democrazia può essere resa più democratica grazie all'intervento di internet, e quanto? Beh, la domanda non è per nulla retorica, perché non è scontato che la risposta sia positiva, però, siccome noi siamo in un'età di grandi mutamenti, tutte le età hanno dei mutamenti, e anche la nostra età, e uno di questi interessanti mutamenti viene dall'innovazione tecnologica. Secondo me, l'introduzione di internet, l'invenzione di internet, e la sua diffusione popolare, a bassissimo costo, perché anche i costi sono importanti, a bassissimo costo, e con una tecnologia sempre più semplificata anche nell'uso digitale o per icone, è sempre molto più facile, è facilitata, e quindi molto alla portata di tutti, è molto più economica. Tutto questo, questo che si chiama innovazione rivoluzionaria di internet, è paragonabile, secondo me, alla innovazione, e alla grande rivoluzione che ha portato con sé l'invenzione della carta stampata, il principio della modernità. Nel Cinquecento, quella grande invenzione ha prodotto rivoluzioni epocali, a partire dalla riforma protestante, ricordiamo che la riforma protestante venne, diciamo, identificata con la diffusione del testo biblico stampato ai fedeli. e questo fu un fatto straordinario, non c'era più soltanto il rappresentante di Dio dal pulpito, nelle sue forme gerarchiche, ma direttamente la sua voce arrivava attraverso la carta stampata ai cittadini, era la democrazia. Quella era una prima forma di azione democratica e la carta stampata fu il grande mediatore. Da allora non ci fu soltanto la riforma protestante, ma ci furono le grandi rivoluzioni. La rivoluzione inglese, sia la rivoluzione che portò al lungo Parlamento e alla dittatura di Cromwell, che è quella successiva, la gloriosa rivoluzione che introdusse quello che oggi noi conosciamo come forma di governo limitato, cioè il re che siede in Parlamento, e forme di divisione dei poteri, di controllo, di riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, e di una società civile che sta fuori dalla politica e reclama i suoi diritti, la sua separatezza. Ecco, questa rivoluzione fu caratterizzata da volantini, giornali locali, ma tanti, petizioni scritte, diffusione di opinioni e di denunce attraverso la carta stampata. Cioè la carta stampata diventa uno strumento rivoluzionario. Un altro tema, sto leggendo questo libro interessantissimo che si chiama Costituzione civica, cioè come il popolo diventa costituente non solo, ma crea la sua Costituzione attraverso forme di partecipazione, di lotte, eccetera, negli Stati Uniti, il Settecento, avviene attraverso migliaia di ribelli scritti e diffusi che cambiano davvero il modo di intendere e di interpretare la politica. Quindi, l'impatto di internet è equivalente, a mio modestissimo modo di vedere, è equivalente all'impatto che ebbe il Torchio nella trasformazione dello scritto da amanuense a stampato. È importantissimo, noi non ce ne rendiamo conto perché viviamo dentro le cose, ma è importantissimo questo aspetto. Quindi l'impatto è e sarà enorme. Dunque, ho prima menzionato l'esempio della rivoluzione inglese, l'esempio di forme democratiche, protestatarie legate alla religione. Ebbene, questo elemento di orizzontalità che già la carta stampata aveva introdotto e di accessibilità della parola, perché un conto è ascoltare la parola, un conto è poterla rileggere, ma varie volte riflettendola, questo è veramente importante, ecco, questa accessibilità e orizzontalità è enormemente accelerata per intensità e per velocità e intensificata con internet. E quindi introduce un elemento internet che forse la carta stampata aveva invece attutito, cioè l'elemento della tempestività e del presentismo, la mutevolezza delle nostre conoscenze e delle nostre interazioni e il fatto che non si sedimentino e rimangano sempre volatili, si dice volatili, e sì, che insomma siano veloci nel passare, questo forse è la diversità più grande rispetto alla carta stampata e furgace e questo è molto importante, quindi orizzontalità, accessibilità, ma anche volatilità e velocità delle trasformazioni di conoscenze, eccetera. Difficile dare giudizi sulle conseguenze dell'applicazione di internet sulla democrazia e nella democrazia, difficilissimi, ci sono alcuni studiosi di democrazia, uno in particolare molto interessante, io vi consiglio magari di prendere noti di questo nome, si chiama Joshua Cohen, C-O-H-E-N, insegna a Stanford e negli ultimi tre anni ha deciso di fare un esperimento, nella sua vita anche, entrando a mezzotempo come professore universitario di Stanford e l'altro a mezzotempo passarlo a Apple. Perché questo? perché c'è l'esigenza di trasformare e di adottare sistemi all'interno della tecnologia di internet che siano capaci di essere applicati alla politica e quindi alle forme di rappresentanza che non conosciamo. Quindi c'è un progetto all'interno delle tecnologie e delle industrie che operano nella tecnologia mirato a questo. Non soltanto quindi a diffondere le informazioni a rendere sempre più difficile mettere paratie di difesa il problema della segretezza che diventa sempre più complicato ma anche sistemi capaci di essere programmati affinché le nostre opinioni i nostri voti le nostre petizioni possono arrivare in tempo record in tempo di pronuncia in tempo di un click dove devono arrivare. Quindi è molto importante che ci sia questa consapevolezza da parte degli operatori nella tecnologia e da parte di chi si occupa di democrazia che ci sia questa sinergia questo bisogno di interagire. Quindi non diamo giudizi anticipati su quello che potrà avvenire e comunque non c'è nulla di cui essere timorosi e aver timore allora nel 500 si era timorosi del demonio della carta stampata perché tutti potevano accedere a chissà quali informazioni e oggi siamo ancora in forma qualche volta assistiamo a queste forme un po' di demonizzazione ma sono cose semplicemente che ci intimoriscono perché non sono così ancora abituali e quindi non siamo così ancora padroni del territorio diciamo come vorremmo essere quindi sarebbe corretto evitare di giungere a conclusione affrettate di essere critici sempre ma questo vale in generale e di coltivare una sana curiosità anche perché la democrazia è un sistema e noi dobbiamo esserne consapevoli lo vediamo tutti i giorni che è sempre aperto all'imprevedibile è sempre aperto alla diciamo a innovazioni che non sono nemmeno anticipabili non si può dire che la democrazia sia mai a riparo da mutamenti anzi è una fucina di creazione di immaginazione istituzionale e questo quindi internet lo è da sola democrazia lo è anche perché la democrazia come forma di governo da quando si è messa cioè è nata in forma importante ad Atene ma c'erano anche altre forme di comunità democratiche prima alcuni studiosi addirittura anche nelle zone africane se ne possono trovare riferimenti anche prima del grande esperimento del grande esperimento ottenese ma noi partiamo comunque di lì è chiaro che la democrazia ha prodotto tantissime istituzioni ha innovato continuamente se stessa con forme nuove di decisioni di controllo per coloro che decidevano prima dopo sulle forme sulle proposte di legge sul numero dei selezionati da mandare alle giurie se usare quando e dove il sorteggio invece dell'elezione cioè hanno creato veri e propri sistemi di decisione e di procedura per governare la temporalità della politica quindi sia la democrazia che internet sono due mondi naturalmente votati a mutazioni a trasformazioni e anche a innovazioni per rendere se stessi capace di rispondere ai problemi dei loro stessi creati e questo ci deve ancora di più far comprendere quanto le due cose insieme quanto questo incontro di questi due mondi insieme possa essere proficuo di grandi innovazioni ora la rivoluzione di internet accade oggi però in un tempo specifico e particolare perché ci sono altre trasformazioni epocali più o meno grandi comunque per chi vive il nostro tempo e le sente sulla propria esperienza sono grandi trasformazioni quelle relative per esempio alle società di mercato al capitalismo che dopo decenni di armistizio con la democrazia pare essere meno convinto che si possa operare proficuamente con questo sistema di governo e per la prima volta direi dalla fine della guerra fredda quando la democrazia vinse su tutto il globo e vinse non soltanto perché vinse politicamente l'occidente sulla democrazia popolari dell'est Europa ma vinse nell'opinione universale che questa fosse il sistema più legittimo ecco questa idea oggi è molto meno granitica di quanto non lo fosse nel 1989 o successivamente ci sono altre forme di governo oggi che stanno diciamo così sfidando la democrazia soprattutto le democrazie grandi occidentali europee americane nord americane che la stanno sfidando su ragioni e su questioni economiche sociali di integrazione di pacificazione sociale non sono più sistemi timorosi di essere mal giudicati della democrazia ma sono sistemi molto più sicuri di sé e capaci sistemi autoritari del mondo asiatico del mondo anche russo sistemi capaci o comunque che hanno il coraggio che mostrano di volere sfidare la democrazia occidentale quindi questo significa che il capitalismo può vivere anche con altri sistemi che non siano democratici questo è un fatto davvero notevole perché per tanti anni noi siamo stati abituati a leggere nei libri ed a educarci alle idee per le quali insomma dei grandi pensatori liberali a partire da Bobbio se vogliamo rimanere in Italia o fuori Berlin se vogliamo rimanere in Inghilterra a Ronne in Francia l'idea che la democrazia costituzionale e il capitalismo avessero un legame quasi naturale e che l'uno attirasse l'altro probabilmente in quegli anni di grande contestazione o ideologica est-ovest questo sembrava più normale di oggi oggi queste cose sembrano diverse sembra che davvero la democrazia si debba apprestare a rispondere ad una sfida da parte di un regime che democratico non è e che promette di essere capace di meglio dirigere la società prendere decisioni più in fretta e con più efficacia senza avere una società diciamo così cacofonica pluralista e anche molto disobbediente e capace soprattutto di prendere decisioni nella sfera economica controllandola e senza togliere alcunché alla possibilità di creare profitto quindi esiste questo per la prima volta per la prima volta le economie capitalistiche mostrano di avere insofferenza verso decisioni fatte nel nome degli interessi della maggioranza e sempre meno disposti ad accettare di moderare le sperequazioni le diseguaglianze consentendo politiche redistributive e una tassazione più progressiva si usa citare ormai quotidianamente Thomas Piketty e lui ha dimostrato in questo libro che sta attirando l'attenzione di tutti facendo un lavoro d'archivio da grande storico e andando a recuperare tutti i materiali archivistici relativi alla storia della tassazione nei paesi occidentali e nei paesi che poi sono diventati democratici e ha dimostrato come le fasi di più grande espansione democratica abbiano coinciso con le fasi di più forte progressività fiscale e le fasi invece di più grande concentrazione di potere e quindi di non diffusione della ricchezza abbiano coinciso con una minore progressività fino ad arrivare a forme molto più blande come sono le nostre faceva degli esempi relativi al dopoguerra immediato quando c'era una tassazione progressivamente molto alta negli Stati Uniti ad oggi che è molto più bassa quindi esiste un problema serio di tensione fra gli interessi dei molti e gli interessi dei pochissimi questo occorre metterlo in conto e quindi occorre anche mettere in conto che un inasprimento delle disuguaglianze di classe esiste e che per alcuni economisti e Pichettin questo non è il solo è possibile dire che la ricchezza tende a concentrarsi ma non produce necessariamente più sviluppo per tutti quindi questo è il tempo nel quale la rivoluzione di internet va collocata è il tempo di una democrazia che è meno diciamo così sicura della propria legittimità globale da un lato ed è anche meno internamente diciamo convinta che un'uguaglianza più ampia delle condizioni e delle opportunità sia possibile ora quindi accanto a questa situazione per in questa situazione anzi proporrei di analizzare e di vedere soprattutto una contraddizione che e questa connessione tra internet democrazia con questi problemi di tenuta dell'uguaglianza sociale di cui ho parlato la seguente una contraddizione questa in particolare ce ne possono essere altre io vorrei analizzare questo il rischio di trasformazione più autoritaria del leadership per esempio la non volontà di garantire a tutti i cittadini uno stesso diritto di contare di essere presenti da un lato e dall'altro lato però la convinzione di molti cittadini che internet offre in realtà questa possibilità cioè se è vero che c'è un mondo dei pochi che tende a essere recalcitrante rispetto agli interessi della grande maggioranza è anche vero che per fortuna dicono i molti c'è un internet o c'è uno strumento che ci può offrire la possibilità di aggredire questi problemi di essere più coraggiosi e di combattere con nuovi strumenti i privilegi tra i quali un privilegio così dicono molti dei movimentisti via internet associato alla formazione di corpi intermedi come i partiti politici cui lei accennava prima che hanno diciamo accompagnato la formazione dei governi rappresentativi a partire dalla prima metà del XIX secolo e che hanno reso dopo la seconda guerra mondiale un grande servizio alle democrazie costituzionali pluralizzando la formazione dell'opinione e creando le condizioni per le competizioni elettorali in regime di libertà quindi in sostanza ecco la contraddizione che è interessante notare mentre la parte più privilegiata della popolazione continua a partecipare alla decisione e alla determinazione delle politiche nazionali non è un caso che la partecipazione al voto si alzi mano a mano che si alzano i redditi non è vero sono i veramente deboli che tendono a non recarsi al voto e qualche volta questo negli Stati Uniti succede quindi che c'è una discrepanza tra futilità e potenza economica o capacità economica futilità il senso del potere del voto quindi appunto la parte più privilegiata che partecipe continua a essere molto parte quella meno invece che sembra allontanarsi sempre di più della politica tradizionale che non la rappresenta più oppure la rappresenta con un'intensità minore con meno interesse anche perché votano meno in fondo hanno meno da dare e cercare quindi nei social network nuovi canali per far sentire la propria la propria voce quindi a internet è assegnato un doppio significato in questo caso non solo come strumento di informazione di interazione comunicazione generale per tutti questo senza limiti ma anche come un mezzo che dà voce politica un megafono di una voce politica e di una rappresentanza che i mezzi tradizionali i partiti tradizionali non danno più perché hanno diciamo così seguito con più attenzione una parte di popolazione anziché tutta la popolazione in questo senso oggi si parla di web democracy di democrazia del web perché non solo dà a tutti informazioni ma può consentire a quelle parti di popolazioni così è la vulgata a quelle parti di popolazioni che si sentono non rappresentate perché le più deboli di cercare altrove e di trovare anzi altrove canali di rappresentanza quindi questo è un elemento che viene spesso citato quando cominciarono a diffondere a diffondersi i pirati il partito dei pirati in Germania alcuni anni fa erano i giovani soprattutto coloro che non avevano occupazione stabile soprattutto coloro che si sentivano o erano ai margini della vita sociale più attiva la situazione cambia naturalmente sempre ma c'è un elemento di connessione tra la difficoltà economica la vulnerabilità della propria sicurezza economica e l'idea che occorre trovare altri strumenti di comunicazione e forse e questo è uno allora in questo caso quel che internet sembra consentire che i web parti partite web via web promettono di fare e dunque di coprire quella parte di dare rappresentanza a quella parte che i partiti tradizionali o i sistemi tradizionali di rappresentanza non rappresentano più e all'interno di questa nuova diciamo così di un nuovo cesto di un nuovo settore dei partecipanti di operare una nuova selezione della classe dirigente della leadership fuori della mediazione dei partiti fuori della mediazione dei partiti e ci ricordiamo noi molto bene come in occasione delle elezioni amministrative di pochi anni fa penso due anni fa tre anni fa la pena costituito Movimento 5 Stelle avesse lanciato la proposta di autocandidature autocandidature senza passare attraverso la selezione dei partiti raccogliendo queste autocandidature attraverso informazioni dirette dai cittadini cioè il curriculum vita addirittura il curriculum vita di tutti coloro che volevano entrare in politica o nella lista o diventare assessori è molto interessante ed è molto problematico a mio punto di vista eccetera usare il curriculum vita perché è un significato totalmente impolitico o antipolitico cosa vuol dire qual è un appello alla competenza neutra alla competenza senza ideologie senza idee politiche quella fu una cultura antipartito identificata sempre con una competenza di tipo ideologico quindi non competente e contro questa visione cercare altre vie per affermare competenze il curriculum vita e quando chiesi a l'attuale sindaco di Parma quando chiesi a lui ma con quale criterio poi selezionate il curriculum vita che cosa cercate nel curriculum vita cercate l'onestà di cittadinanza cercate la buona politica ma non c'è scritto nei curriculum vita cosa cercate cos'è qual è la ragione ma la ragione vera non era tanto quella di cercare le nuove competenze ma era la contestazione del modo attraverso il quale le candidature erano state fin lì costruite quindi è per un nuovo tipo di selezione politica di selezione del personale politico in che modo dalla società civile direttamente alle istituzioni senza passare per intermediari questo è il fatto nuovo che ci piaccia o meno su questo occorrerà poi sempre soffermarci perché la mediazione la politica mediata la politica della indirettezza è quella che ci ha accompagnato nel mio caso per tutta la mia vita nelle casi delle generazioni più giovani forse non hanno mai conosciuto il partito quindi non sanno cosa significhi allora la politica della indirettezza è una politica fatta attraverso altre istituzioni a parte le istituzioni dello Stato che stanno fuori dello Stato vicino ai nostri interessi e alle nostre associazioni che si chiamano partiti politici questi non sono nati a caso non erano amati non sono mai stati amati i partiti politici le opere e gli iscritti contro le fazioni contro i partiti politici si contano aiosa nella storia anche da parte di grandi attori politici come coloro che hanno fondato gli Stati Uniti d'America che all'inizio consideravano i partiti comunali attori un fatto negativo oppure nel nostro paese che hanno i primi fondatori del governo rappresentativo dopo l'unità nazionale ha avuto sempre molta diffidenza nei confronti del partito fino a che la nobilitazione del partito la nobilitazione anzi del partito con le lotte per la libertà contro un fascismo che l'aveva soppressi i partiti quindi partito uguale libertà e partecipazione ora questa fase è molto erosa e conclusa in qualche modo perché non c'è più questa sensazione che il partito abbia questa funzione ha avuto una funzione di informazione di formazione di una classe dirigente io vengo da una regione l'Emilia Romagna nella quale veramente la persona più ordinaria nella vita e nel mestiere se aveva un interesse per la politica poteva attraverso i partiti entrare a far parte di questo mondo educandosi conoscendo le procedure democratiche le istituzioni le leggi le leggi di amministrazione locale le procedure da usare all'interno delle istituzioni insomma diventando cittadini attivi nelle istituzioni i partiti hanno fatto questo ecco non hanno fatto solo questo hanno fatto altro che purtroppo è diventato un poco insostenibile nel tempo ed è proprio in questo senso che quando Pizzarotti andava alla ricerca con il curriculum vitae dei nuovi assessori lo voleva non faceva altro che criticare il modo col quale i partiti facevano la selezione quindi dalla società civile al governo direttamente senza l'intermediazione senza cioè quella scuola di formazione o selezione che ci ha accompagnato per decenni nel bene e nel male io direi nel bene perché il male è una violazione della norma della regola cioè chi ha male usato i soldi pubblici non può essere identificato con i partiti ha male usato i soldi pubblici e quindi occorre distinguere sempre tra forme di partecipazione nei corpi intermedi e il loro abuso mai unificare le due cose e pensare che l'una naturalmente equivalga all'altra questo purtroppo è una retorica nella quale noi siamo un po' troppo caduti negli ultimi anni e che ritorna spesso di nuovo occorre fare non le distinzioni tra le persone tra cosa significa operare nei partiti per perseguire quello che i partiti desiderano vogliono cioè selezionare la classe dirigente dirigere e rappresentare e coloro che invece fanno altro distingue allora cosa è una democrazia rappresentativa senza partiti come possiamo rappresentarcela come come è una democrazia rappresentativa indiretta e come dobbiamo chiamare questa democrazia via web non è innanzitutto una rivendicazione di partecipazione diretta questo è un fatto singolarissimo contrariamente alla rivoluzione del passato 1848 1968 e altre eccetera non c'è più la rivendicazione dei cittadini dell'autonomia politica siamo cittadini vogliamo noi decidere rifiutiamo l'intermediazione no questa democrazia via web accetta tranquillamente le elezioni e quindi le forme indirette della rappresentanza ma vuole gestire direttamente attraverso la rete non solo la selezione ma anche l'interazione possibilmente il controllo dubito che ci siano ancora riusciti ma insomma direttamente quali problemi possiamo segnalare primo io ne segnalo due ma ce ne possono essere altri due in particolare il primo problema il primo problema riguarda una trasformazione che non è non evidente la possiamo osservare della democrazia da democrazia dei cittadini a democrazia di un audience nel quale il cittadino attivo è più attivo in maniera mediata attraverso la rete che non direttamente internet e i media mettono al centro la visione forse i media tradizionali più di internet ma anche internet ha una buona dose di passività e di recettività e il cittadino spettatore più che altro quindi fanno di questo popolo dell'audience un'entità indistinta che molto spesso è mossa generata da chi la muove cioè dal leader o da un gruppo che provoca un'opinione che vuol provocare quella reazione e dall'altro lato abbiamo il leader invece o i leader che incontrano il pubblico di internet o dei media ma senza rendere conto tanto più ad altri intermedia ai corpi intermedia a cui avevo fatto riferimento prima in fondo i partiti hanno nel bene o nel male degli organi eletti dei sistemi di controllo delle carte quasi costituzionali e internet ancora non ha questo e i partiti internet non hanno questo addirittura il Movimento 5 Stelle o anzi scusate Beppe Grillo punto it è iscritto nella Camera di Commercio quindi come una società privata non c'è davvero la possibilità ancora oggi di considerarla come un luogo dove e attraverso il quale è possibile non solo esprimere idee ma anche controllare da avere i leader e non essere semplicemente un pubblico ma svolgere un'azione più diretta quindi in questo caso il leader ha una funzione interessante perché ma questo è più generale non è soltanto legato ad internet e anche il modo come la leadership viene selezionato ormai o operata attraverso i media e il leader accetta che cosa in questa sfida accetta di entrare nel pubblico e di essere pubblico di diventare pubblico e rinuncia molto della privacy sempre sotto il riflettore forse questo è l'unico costo che deve pagare poiché non è tanto il rendiconto che deve fare quanto essere sempre la sua figura è essere sempre sotto i riflettori e di essere in grado di accettare che la sua privacy sia molto minore di quella degli altri cittadini ma lo fa in cambio di investitura in ogni caso è l'unico costo che deve pagare la limitazione al suo potere viene dall'essere sotto i riflettori del popolo o dell'audience del popolo come audience dimostrarsi in pubblico questo è un problema è un problema nel senso che ovviamente tra il pubblico del pubblico un pubblico senza cittadinanza definita o questo mondo indistinto e il leader non ci sono sistemi di controllo intermedi che possano controllare ulteriormente non soltanto con i riflettori diciamo così il lavoro del leader il secondo problema è invece più legato a mio parere all'uguaglianza di cittadinanza e qui devo dire che insomma il Movimento 5 Stelle non ci dà nessuna in questo momento garanzia davvero che i cittadini o coloro che sono legati al Movimento 5 Stelle abbiano tutti davvero la stessa possibilità di voce che la voce è loro uguale come loro dicono quando si oppongono ai partiti tradizionali cioè è indubbio che internet apre la rete a tutti che sia molto economica che sia diffusiva però il suo popolo in questo momento ancora è una minoranza ma è una minoranza per un'altra ragione non solo perché pochi lo praticano ma questa è una questione di tempo la nuova generazione lo praticherà tutto quindi questo non è un argomento ma anche qualora tutti lo praticassero sarebbero comunque sempre una minoranza coloro che hanno tutta la capacità di influenza o di influenzare di entrare nella rete anche perché hanno o più tempo o più voglia o più capacità di operare quindi non è un argomento forte pensare che ci sia questa espansione dell'uguaglianza di cittadinanza certo c'è la potenzialità per ma come nell'Atene antica non è che tutti andassero in assemblea anzi dovettero pagare diciamo l'equivalente di una giornata di lavoro per riuscire a far sì che i poveri cittadini potessero permettersi l'uso di andare e sedersi in assemblea quindi c'era passività anche allora non è che la democrazia diretta sia totale attività quindi non ci dobbiamo scandalizzare per questo però l'argomento secondo il quale più rete uguale più eguaglianza è da provare e non è per niente convincente da solo e non solo ma può generare anche nuovi livelli di mediazione e di potere però e per ora questi livelli di mediazione di potere sono addirittura meno controllabili perché ci sono ancora sistemi di monitoraggio forti abbastanza per essere sicuri che il voto e l'opinione mandata su internet abbia abbia una efficacia e anche una legittimità alla quale noi teniamo particolarmente poiché la democrazia è procedura insomma le regole le organizzazioni sono fondamentali forse attraverso la rete è possibile renderla più agevole o più leggera o più possibile più espansa ma non la si può sostituire e quindi questi due problemi nel formazione della leadership sia del rapporto leader pubblico sia della orizzontalità o del rapporto uguaglianza politica e di voce e di potere della voce e rappresentanza restano due problemi che la rete in questo momento le esalta ma non li non le risolve è questione probabilmente di tempo e di tecnologie però non non dobbiamo pensare che sia che sia un oggetto da demonizzare è fondamentale per noi per tutti noi sapere che possiamo accedere alle conoscenze prima di tutto e alla interazione con chi ha potere e con chi gestisce non con chi ha potere sbagliatissimo con chi gestisce le funzioni pubbliche è importante come è importante per lo Stato che abbia trasparenza la trasparenza delle istituzioni è molto importante più di quella della politica praticata delle istituzioni è fondamentale e quindi la rete ha queste grandi potenzialità ma ha anche potenzialità nel consentire la partecipazione politica fuori dalle istituzioni allora se noi abbiamo per democrazia rappresentativa se noi la vediamo come un corpo che sta su due gambe le istituzioni e le opinioni fuori dalle istituzioni certamente internet ha una grande potenzialità da questa parte soprattutto fuori dalle istituzioni e occorre saperlo usare nei modi che ancora noi nelle nostre generazioni non abbiamo usato prima di tutto occorre creare rapporti permanenti ma controllati c'è un fatto importante che ho tralasciato da dire perché forse ho già usato troppe parole l'altro corpo intermedio che la democrazia del web pensa di volere bypassare è quello del giornalismo accreditato della stampa di professione nella convinzione che anche in questo caso a noi si possa fare da soli cioè noi siamo tutti share homes e possiamo raccogliere le informazioni o non abbiamo bisogno di un gruppo di professionisti dell'informazione che filtre le informazioni che ce li dia come non abbiamo più bisogno di professionisti della politica beh ci è da un lato ovviamente un fatto straordinario di poter raccogliere informazioni però noi sappiamo benissimo che sia il problema della informazione accreditate della validità e validificazione è un problema importante e l'altro un problema importante è che la rete nell'illusione molto spesso di darci tutto subito e tutto direttamente a casa ce lo dà in una maniera tale per cui ci lascia la possibilità di scegliere quelle notizie che a noi fanno più comodo che ci piacciono di più verso le quali siamo più attratte quindi come Cass Sunstein ha scritto è molto possibile che invece di avere un'apertura come sempre noi diciamo insieme all'apertura ci siano anche nuove forme di chiusura ciascuno dentro la propria nicchia non voler ascoltare e sapere quello che fanno gli altri noi entriamo solo nei siti che vogliamo dopo tutto quelli che sono più vicini a quello che pensiamo quindi questo è insieme una contraddizione apertura e chiusura nello stesso tempo la seconda molto interessante è il fatto che le notizie o anche i rumors anche le pettegolezzi i modi il si dice le dicerie circolano e non hanno il molto spesso il sostegno di alcuna prova ma una volta in circolo è molto difficile fermarle è molto difficile controbatterle corroborarle quindi è una lotta permanente diciamo così per far sì che il web diciamo è come se lo si volesse fermare ad un certo punto per aggrapparlo ad un fatto reale che scompare invece che non c'è più questo che può sembrare essere una società liquida è una società che però rende complicato il rapporto tra fiducia e fede noi tendiamo ad avere fede per quello che ci viene detto perché non abbiamo sistemi molte volte di misurazione o di controllo di quello che ci viene detto quindi fede invece di fiducia che sono due cose diverse e questi sono problemi seri che i leader molto spesso sanno che ci sono e che li sfruttano perché è molto facile creare fede ed essere avere rapporto fideistico con il leader ci hanno provato non soltanto i regimi comunisti nazisti ma ci provano tutti i regimi particolarmente quelli democratici che hanno una grande familiarità con la demagogia con il populismo quindi anche la democrazia è capace di questo e naturalmente il media un media come internet può rendere questa trasformazione da passaggio da fiducia a fede la fede è quasi cieca cioè non va alla ricerca della prova la fede è un'adesione a critica come una volta c'erano le ideologie e oggi ci può essere il rapporto fideistico con un capo non cambia molto dal punto di vista del fenomeno cambia ovviamente nel contenuto questi sono problemi tutti aperti e che possono rendere quello che noi chiamiamo democrazia della rete o democrazia senza impartiti non per questo una democrazia più democratica ma poiché le parole sono sempre così diciamo aleatorie ambigue poiché la democrazia stessa è una parola ambigua che può essere interpretata in modi minimi procedure per la decisione o in modi massimi eguaglianze partecipazione che sono più noi la ampliamo più noi la rendiamo ambigua è possibile è aperta a tutte le più grandi interpretazioni quindi con la consapevolezza che la democrazia stessa sia un campo di ambiguità in sé è chiaro che quando a questa ambiguità già sua connaturata si aggiunge l'ambiguità che questo nuovo grande strumento ci dà noi possiamo soltanto prevedere una società nella quale non c'è mai limite al nuovo o al diverso perché è questo che ci porterà probabilmente quindi senza timori e con la giusta attenzione a nuove forme di rappresentanza purché i principi democratici siano rispettati sempre che sono praticamente l'uguale libertà dei cittadini di avere voce e per voce possiamo intendere sia quella che mettiamo nella scheda in forma di nell'urna in forma di scheda quella è la voce formale ma anche la voce che è fuori da questo la nostra voce che ha la capacità di creare influenza di creare progetti politici o partiti o movimenti e che ha delle gambe molto spesso più incerte e più ambigue dell'altra di quella voce che va dentro l'urna con la nostra scheda grazie a tutti se ci fossero domande se ci sono domande dal pubblico al momento giusto io sono un po' logorroica mi rendo conto parlo e mi ero so ah boh grazie sì grazie se lei si alza si può forse l'ha acceso sì ecco allora innanzitutto è stata una una conferenza veramente interessante io volevo volevo fare una piccola domanda probabilmente così ma noi stiamo parlando di internet come libertà di espressione come libertà di mostrarsi come si è non c'è il rischio che se estremizzato come certe persone tendono a portare e quindi a denudarsi direttamente davanti a tutti non c'è il rischio che questo denudarsi porti ad un accrescimento del potere verso solo certe persone che utilizzano questa cosa per diciamo cercando di fregare quelli che si liberano quindi non c'è non c'è il rischio di andare incontro ad una proprio all'effetto contrario quindi un'eccessiva libertà non porta a un rischio di un'eccessiva concentrazione di potere bisogna stare attenti la libertà è sempre non usiamola questa espressione non è che più libertà sia negativa ma no ma come no diciamo invece questo è vero che c'è l'attentativo di chi usa la rete noi usiamo la rete nel nostro mondo privato non dimentichiamocelo mai non si può usare nel mondo del lavoro non si dovrebbe quindi la usiamo da privati nemmeno da cittadini quando noi entriamo nelle nostre case noi siamo nel nostro castello come dicono gli inglesi privatissimi la usiamo in pantofole la usiamo in pigiama la usiamo di notte quando non dormiamo cioè la usiamo nella nostra vita più privata meno pubblica quindi la usiamo sapendo di essere davvero cioè quello diciamo e pensiamo che sia questa la più grande trasparenza che sia questa la più grande autenticità ma stiamo molto attenti a questo vero prima di tutto perché perché le forme di interazione quando avvengono senza screening senza uno schermo che ci separa questo mito della direttezza a tutti i costi ci può rendere noi stessi altro noi diventiamo tutto a quest'idea di perdere la propria identità ci sono degli studi molto belli sulla de-individualizzazione che questi fenomeni possono portare cioè io mi divento alto aderisco a quello che dice entriamo in un mondo nuovo in un mondo che è nostro per cui io cambio idea cambio visione completamente perdo il mio self il mio senso del sé e divento tutto e questo sia per alcuni considerato positivo perché si de-individualizza e quindi si toglie quell'elemento egoistico alla democrazia per cui tutti si perdono in tutto ci sono delle bellissime teorie su questo trascendentali quasi religiosi in alcuni casi le religioni orientali sono proprio basate sulla de-personalizzazione quindi c'è questo ritorno all'interesse e alla de-individualizzazione ma dall'altro lato per chi è convinti che la libertà presuma limiti e quindi delle limitazioni che noi ci diamo che noi ci diamo allora significa che il rapporto con gli altri va anche mediato che insomma tra me e gli altri una buona distanza ci deve essere ecco perché la cittadinanza è un fatto importante la cittadinanza è una distanza cioè io non intervengo direttamente con lei ma tra me e lei ci sono le leggi le norme il mio dire è un dire di cittadino non è un dire io non dico quello che voglio in questo momento non traduco la mia mente immediatamente in parola c'è una mediazione che è dettata dall'idea del pubblico del dire in pubblico qualcosa di rispetto di tante cose che appartengono alla nostra seconda natura alla nostra morale condivisa e che ci fa essere persone pubbliche non semplicemente in pigiami in pantofole da mattina a sera quindi è questa l'idea di profonda libertà non pensare che ci sia tra me e lei non ci debba essere nulla no tra me e lei ci deve essere questa mediazione vero? perché grazie a quella noi entriamo in contatto in relazione come uguali e come persone meritevoli di rispetto senza questo beh insomma il più forte vince il più furbo vince cioè la politica è l'arte della creazione di mediazioni la legge è una mediazione la norma è una mediazione che ci consente di trattarci come se noi fossimo uguali cittadini ovviamente nella vita privata non siamo uguali in tante cose però è un modo di protezione di noi stessi che non siamo in perenne ciavaccia sempre in perenne pigiama insomma posso su questo aggiungere una cosa solo rapidamente secondo me è sbagliato il presupposto di partenza cioè su internet secondo me siamo già completamente tutti nudi sempre se si vuole qualcuno volesse sapere le tue preferenze politiche lo possono fare tranquillamente le persone che raccolgono metadati su di te continuamente quelli che ti tracciano a fini pubblicitari anche attraverso le carte di credito in qualunque maniera sì ma possono sapere i luoghi che frequenti che persone con che persone interagisci da quello che condividi si può dedurre tranquillamente il tuo orientamento politico quindi secondo me il problema semmai è capire come si può conciliare un ambiente come internet che è costantemente tracciato e sorvegliato l'abbiamo scoperto col caso Snowden con la democrazia cioè una cosa è una società sempre visibile no? questa è sempre controllata la società come occhio no? come occhio questo è il problema sì è un problema anche perché quando noi cioè la cittadinanza presume un livello di una paratia si può dire un'interruzione non un'apertura a tutto cioè che lei si presume che lei sia diverso da me e che lei voterà con la sua testa o con la mia questa è una presunzione è un assunto ovviamente è un astratto ma è un assunto importante che presume che ci sia un momento in cui io non dialogo più cioè non è che il dialogo sia sempre positivo c'è un momento in cui bisogna interromperlo io non voglio mica diventare altro anche quando noi diciamo benissimo ci tolleriamo parliamo ma la tolleranza vuol dire accettare tutto c'è un momento in cui bene tu hai queste idee io questa abbiamo discusso e questo è molto importante che non è tanto segretezza ma la propria diciamo così individualità è la propria persona che però è come Annaren ha bisogno di una segretezza c'è bisogno di un momento in cui io a casa mia so che sono io e basta a casa mia può essere non solo la mia mente e il mio cuore ma ha proprio una sfera di vita fisica di cui io ho bisogno perché grazie a una segretezza che mi dà la possibilità di avere una vita privata io posso poi alimentare la vita pubblica una vita tutta pubblica è una non vita non ci sono persone individue in una vita tutta pubblica infatti i regimi totalitari vogliono questo tutto sommato per cui la democrazia non ha la tendenza a metterci tutti in pubblico però perché c'è è sempre individuale la democrazia è basata sugli individui sulle persone singole sulla persona la nostra Costituzione su questo è molto chiara la Costituzione è una persona quindi la persona non è uno spazio aperto a tutti è una bisogna sempre vedere le cose da questo modo e infatti oggi c'è una penso che fosse oggi o ieri oggi un articolo molto molto bello di rodotà su Repubblica sul problema dei limiti posti posti a Google e alle forme diciamo così limiti in ragione dei diritti delle persone dei diritti individuali alla segretezza sì ciao Fabio buonasera professoressa volevo sottoporre la sua attenzione una piccola provocazione io sono abbastanza convinto che internet sia incompatibile con la democrazia incompatibile incompatibile con la democrazia e porto soltanto una riflessione sulla quale vorrei un suo giudizio Schmitt e Cohen nel loro libro La nuova era digitale dicono che gli old media avranno in futuro il ruolo di filtro ma sarà un filtro che verrà utilizzato soltanto dall'elite mentre tutti gli altri quindi le non elite la cittadinanza si informerà soltanto attraverso i new media quindi rilacciandomi anche quello che lei diceva prima sul problema dei rumors di un'informazione che comunque è inquinata e non controllata perché non come dire navica sui social media e non ha un filtro perché come dire è una e questo anche nell'ideologia egalitaria di internet finiremo per avere un elite che si informa e che avrà di freni critici quelli che lo storico esinga diceva freni critici mentre una massa di una popolazione che si informerà attraverso i social media quindi con un'informazione che potremmo definire inquinata se abbiamo queste due cose come si può conciliare con la democrazia? Sì è vero che c'è questo ed è vero che è già in atto non è un fatto del futuro è già in atto però dunque innanzitutto l'inquinamento non è che sia cominciato adesso l'inquinamento comincia nel momento in cui noi decidiamo in un gruppo di persone di metterci insieme di fare una comunità politica non è che e quindi abbiamo informazioni comune qualcuno le boicotta alcuni le tengono e ne fanno monopolio e c'è sempre stato c'è un elemento di inquinamento che appartiene alla perché chiamare inquinamento? Bisognerebbe avere un senso di purezza qual è il senso di purezza rispetto al quale diciamo che c'è l'inquinamento? Come quando si dice la democrazia è malata beh perché qual è quella sana? Da dove si vede? si vede il numero dei cittadini che vanno a votare ma no allora perché non abbiamo costituzioni che impongono di andare a votare? Ci lasciano liberi di andare a non dare non possiamo è difficile dire che cosa qualificano la democrazia come una democrazia in crisi molto complicato da un punto di vista di procedura ovviamente scientifico è chiaro che l'opinione noi sentiamo è un sentire sentiamo ecco sentiamo sentiamo che alcuni sempre più privilegiati chi sono i più privilegiati? sono i professori universitari? loro dicono l'elite manager politici chi è l'elite? manager elite politici ma chi sono i quali manager? a che livello? a che livello? i politici a che livello? e vede che quando noi cominciamo ad analizzare e a sfaccettare a rompere questa categoria generica diventa più più complicato più problematico un altro esempio può essere sì è vero che c'è questa tentazione perché no? perché no? il potere dice l'anello di Gige chi ha il potere vuol nascondersi e quindi vuol tenere tutte le informazioni per sé l'ascondimento è questo è il monopolio dell'informazione così che gli altri non sanno sono solo tutto io però e non è il lavoro della politica è proprio di far questo di scardinare questo di far sempre un po' una competizione su questo e poi c'è un elemento di fondo in un libro molto bello vari ma l'uno in particolare scritto da Pier Rosanvalon sulla controdemocrazia lui dice introduce un elemento interessante la diffidenza non ci si può fidare mai e quindi la capacità che gli individui hanno i cittadini hanno e la cittadinanza è anche questo mettere fare un passo indietro non lasciare che l'opinione al più cioè diventi me è vero? avere sempre un po' di distanza e di diffidenza quindi come si fa a dire che c'è c'è un'elite sola che ha tutto e noi massa chi è la massa? chi sono i massa? lei? io? io non mi sento massa lei si sente massa? un po' sì ma come fa a dire questo? no non ci sto scherzando no è punto lei sta vedendo la domanda esatto si parla di massa ma si pensa che la massa sia sempre l'altro che non siamo mai noi dentro perché che cos'è la massa? è un'informe entità di cui gli antidemocratici sono sempre serviti per dire guardate questa è insomma gente seconda e poi c'è la gente prima però è molto è molto complicato è vero che c'è il rischio è vero che c'è il rischio però ci sono anche gli Snowden però ci sono anche coloro che rompono però ci sono anche coloro che si che disobbediscono che si che diffidano non credo che gli umani siano così facilmente trasformabili in una massa mi viene sempre in mente quel film che in visione durante la guerra fredda io l'avrò rivisto ventimila volte mi piaceva tantissimo era americano ovviamente e c'era un film che parlava di grandi piselli mostrava dei piselli dei baccelli enormi che prendevano il posto delle persone l'avete mai visto? l'invasione dell'ultracorpio e questo è la stessa mito la stessa mito voi chiudete gli occhi e arrivano queste elite che che hanno tutto il potere e noi siamo altro e ci 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 prendono ci ci mangiano e noi non siamo più noi ma come si fa come si fa a poter dire questo? cioè io vorrei sapere chi sono questi pochi che cosa hanno in più rispetto a quel che io a parte i soldi e il potere il potere di far cose eccetera un livello di istruzione diverso possiamo far finta che non ci sia un problema allora questo però è diverso questo è diverso perché la massa non è tutta ignorante cioè non è vero non è vero è il livello di istruzione d'accordo allora facciamo un discorso bisogna educare eccetera eccetera d'accordissimo però noi non abbiamo poi una popolazione di ignorantissimi non è vero che sono tutte così ignoranti è vero che c'è un problema perenne di rieducazione di riaffabetizzazione che c'è una forma di analfabetismo di ritorno lo sappiamo questo qui però non siamo non dovremmo essere così catastrofisti se lei riesce a dire questo e io riesco a dire questo e molta gente qui io non sarei così catastrofista non lo sono per natura ma in particolar modo no il controllo è importante il controllo attraverso leggi attraverso opinioni perché ti si deve sempre fidare di tutto quello che si legge e non si può andare a verificare se si davvero tiene e poi pensare che gli esseri umani sono imprevedibili se Snowden è stato capace di aprire la cassaforte delle informazioni insomma del sistema americano di sicurezza beh c'è speranza no? meno per il sistema di sicurezza americano ma è legato il topo cioè la politica è una lotta fra gatto e topo ma mai pensare che vinca l'uno o vince l'altro perché a quel punto è finita non è che siamo tutti topi oppure c'è un gattino solo ma poi muore lui però sono due domande là poi se a forse tre ecco prendiamo queste tre poi vediamo un po' poi chiudiamo se non diamo l'uomo laggiù grazie salve niente lei parlava prima di questo popolo che nell'oscillazione diciamo della dell'affermazione dei partiti rivendica una certa autonomia nel controllo delle proprio delle persone che li rappresentano no? e allora mi chiedevo non è che questo fatto che la gente comune quella che adesso lei chiamava massa vuole di nuovo io non la chiamavo ma quella che il signore chiamava massa rivuole il controllo della società quella che intermedia come diceva lei non è che senta una mancanza di un certo numero di contrappesi anche istituzionali che magari non ci sono più o che non siete più presenti quello che citava lei prima l'informazione e l'informazione che ha delle fonti che approfondisce che è certa che ha dei dati che ha dei fatti ma anche della giustizia per esempio mi viene in mente di opinioni molto opinionisti molto forti e molto preparati di competenti eccetera eccetera potrei andare avanti a lungo e poi aggiungo non è forse un problema quello della fretta e quello della velocità del passaggio delle informazioni che purtroppo non sono quindi approfondite la fretta è una cattiva questo della fretta è interessante più che fretta è chiamiamolo presentismo cioè tutto deve essere veloce e tutto deve essere non abbiamo più e non abbiamo nemmeno tendenza a memorizzare perché tutto avviene così in fretta che quello che è venuto dieci giorni fa già ce lo siamo completamente dimenticato che è una forma di attenzione davvero al fatto al fatto all'evento e che che passeva questo è vero che c'è non è indiscutibile i media non tanto la carta stampata pone questo problema ma i media il giornale lo si legge di sera tranquillamente quando si vuole lo si legge negli scampoli di tempo ma il media è lì o lo vedi lo registra lo vedi ed è quello insomma è vero che c'è questo però per quanto riguarda i corpi intermedi che costituivano e questi sono secondo me un vero serio problema i corpi intermedi sono fondamentali fondamentali perché sono quelli che ci consentono di fare un passo indietro e di vedere le cose in maniera più indiretta più immediata senza per alcuni sono un fatti negativo perché creano una classe in termini di dirigenza elitaria o eccetera però a parte il fatto che questa classe in Italia può essere sempre cambiata e questo serve in fondo la democrazia non occupano il potere diceva Claude Leford che la democrazia ha la capacità di rendere vuoto lo spazio del potere non appartiene a nessuno c'è un passaggio di funzioni ma nessuno ce l'ha non è che questo è mio ci hanno provato ma non è che abbia funzionato quindi c'è questo elemento importantissimo di vuotezza del luogo del potere che la democrazia dà e quindi i corpi intermedi servono per rendere modificabile ma controllabile questo passaggio questo io ritengo che sia il problema di noi nostro i corpi intermedi la loro forse rifondazione forse ridefinizione forse ma sono fondamentali mai pensare che tutto vada così il potere e poi noi in mezzo nulla perché noi ci rimetteremo tantissimo in quanto siamo deboli rispetto al potere degli istituzioni quindi abbiamo bisogno di intermediazioni secondo me fondamentali sono per una democrazia solida su questo sono d'accordo con lei solo per introdurre brevissimamente un elemento di complessità Snowden però quando si parlava di informazione tradizionale accertabile affidabile tutto quanto contro informazione nuova invece meno internetiana bla 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 Snowden è andato da un blogger però c'è andato da Glenn Greenwald e c'è andato perché è ferocemente critico dell'informazione tradizionale quindi bisogna tenere conto di tutta la complessità della questione cioè la domanda vera secondo me e lasciamo qui sospesa è d'accordo l'informazione oggi in rete è inquinata come avevate detto voi quanto lo era prima? Sì e non solo ci sono anche per esempio un problema serio è anche quello della diminuzione delle testate della concentrazione delle testate questo è un problema economico oltre che di informazione la costruzione di insomma in un libro scritto da John Dunn credo che sia tradotto anche in italiano si chiama Democrazia una storia lui dice che nel giro degli ultimi non so 50 anni il numero delle testate è diminuito vertiginosamente lui parlava dell'80% e dei proprietari di giornali è anche diminuito quindi ci sono forme di accorpamento concentrazione che può essere un elemento importante per esempio ritorniamo sempre a parlare di democrazia americana che conosco meglio da questo punto di vista fino almeno come diceva Robert Dahl agli anni 60 il numero dei giornali era già diminuito allora intorno agli anni 60 rispetto ai principi del secolo una piccola cittadina come Concorde in Massachusetts aveva 15.000 20.000 abitanti e 30 testate e poi 2 3 oggi una forse il New York Times il giornale locale eccetera perché tanto bisogno di stampa di stampa scritta e oggi meno meno forse perché si usa più internet è vero c'è questo elemento si legge meno il giornale ma è anche vero che c'è una diminuzione del numero delle testate sono molto care e infatti in alcuni casi ci sono leggi che aiutano il pubblico paga dà soldi alle testate manifesto da noi manifesto tenuto in piedi in parte dai soldi pubblici alcuni dicono che è uno scandalo altri pensano che sia invece un fatto necessario perché se tutto andasse secondo il mercato allora poche sarebbero davvero le testate quindi anche le testate grosse ricevono dei soldi dal pubblico è giusto che il pubblico paghi questo scusate il pubblico democratico è un pubblico mica tanto ricco noi non è che siamo aristocratici non siamo gentri non abbiamo castelli eccetera abbiamo le nostre mani quindi il nostro governo il pubblico è fatto da noi e quindi noi abbiamo bisogno di darci degli strumenti poiché non è che possiamo semplicemente costruirli da noi non abbiamo le risorse quindi bisogna che usiamo le risorse che abbiamo cioè le risorse pubbliche le nostre tasse per costruire e per alimentare i mezzi attraverso cui la democrazia funziona e i giornali o la stampa è un mezzo il voto è un mezzo le cabine elettorali costano e anche la carta e la penna costa per andare a votare questo è giusto mica si può togliere perché è costosa cioè le istituzioni democratiche non sono costose sono quel che devono essere se poi vengono malusate e chi le usa abusa quello deve essere condannato ma non tolta l'istituzione che costa quindi le istituzioni democratiche costano perché noi siamo poveri noi siamo ordinari cittadini col nostro lavoro e quindi dobbiamo pagarcele le nostre funzioni noi ci dobbiamo dare i soldi a noi è normale che sia così altrimenti facciamo il governo oligarco e quando c'era l'ancien regime prima della rivoluzione francese non c'era questo problema facevano loro raccoglievano le tasse da loro nel loro territorio avevano i loro impiegati ciascuna famiglia nobile e un piccolo stato noi non siamo famiglie nobili quindi allora c'è bisogno di un pubblico per alcune cose pubbliche politiche la stampa supponete che spariscono tutti i giornali perché sono perché non tirano più come si fa noi non siamo capaci di vivere senza quotidiani non perché non ci riusciamo perché la democrazia ha bisogno e poi e poi le istituzioni anche sono costose vanno difese però non vanno non c'è un trade off non è che meglio questo di questo no la democrazia è fatta di libertà politica uguale libertà politica e questa nelle sue varie funzioni dei costi ma questi costi sono il nostro salvadanaio dovremmo avere un salvadanaio per il pubblico un salvadanaio per il funzionamento della democrazia e non confonderlo con gli altri salvadanaio non dire ah togliamo un po' lì un po' lì un po' no su questo non si può transigere poi si può tagliare su altro il numero degli burocrati non lo so ma su queste basi no su queste altre no quindi è molto importante comprendere questo io sono d'accordo quindi con lei tutto per dire questo un'ultima domanda ho qui il microfono non lo so chi era prima ce l'ho qui ah c'è lei scusi tanto grazie ad entrambi grazie professoressa Urbinati la leggo spesso volevo sapere cosa ne pensa di un affiancamento alla democrazia rappresentativa di una democrazia partecipata perché una cosa è cioè diretta sì però con istituti che vadano anche al di là della sola perché è uno strumento democrazia cosiddetta digitale quindi penso agli istituti referendari quelli seri che non sono quello sciocco che vige in Italia abrogativo sia o no con il vuoto legislativo che ne consegue ma sono le leggi di iniziativa popolare sono come alcune democrazie che funzionano la Svizzera ma per esempio dove ci sono referendum consultivi dove chi leggifera deve ascoltare i propri cittadini che hanno diritto di non volere che una legge entri in vigore cioè ci sono tutta una serie di sistemi che affiancano per me l'internet che è una grande potenza è uno strumento è uno strumento enorme di diffusione di conoscenza di passaggio di informazioni ma resta l'impressione che io spesso ho frequentando la rete che diventa uno spogatoio più o meno garbato più o meno violento più o meno di parte ma poi la vera capacità di incidere che vuol dire votare un voto che poi conti cioè questa cosa qui dovrebbe essere garantita dal nostro Stato io penso alle riforme costituzionali che ci attendono importantissime urgentissime però questo tipo di nuova svolta se non a mio parere sarà affiancata da quello che la Costituzione italiana dice e cioè la possibilità da parte dei cittadini di contare attraverso tutti i referendari fatti bene io sono molto preoccupata di questa deriva di regista e non mi interessa di che colore sia sì sì questo è un problema un problema una questione seria ed è molto opportuna i nostri così erano molto diffidenti nei confronti del referendum infatti lo hanno limitato molto sia nella raccolta delle firme paradossalmente è facile boicottare un referendum con la bassa partecipazione sotto un 50% eccetera quindi sono tutte forme di limitazione la Germania è più elastica in questo di noi oppure non ammette leggi di proposte esatto e quindi questo può essere aggiunto rifatto questo è urgente perché le diffidenze di allora la diffidenza per il popolo attivo si era appena uscita dal fascismo si era davvero queste diffidenze oggi davvero dovrebbero essere superate e occorrebbe espandere invece di restringere le forme però c'è una devo dire una tendenza verso la restrizione nonostante tutto per esempio il voto medesimo ci sono degli studi ancora più interessanti che stanno emergendo molti colleghi in tutto il mondo questa considerare il voto un fatto inutile ma non perché non lo usiamo no un fatto inutile perché è sempre meno usato come strumento per nominare persone si usano altri strumenti sempre di più il voto indiretto per esempio cioè noi riteniamo l'ottocento ci sono elettori superiori ad altri che hanno due voti invece non abbiamo uno solo alcuni possono eleggere anche secondo alcuni in Francia già succede i senatori però succede perché era una lunga tradizione non è che loro sono andati dal voto diretto il voto indiretto loro vengono da quella tradizione noi andremo indietro in questo caso comunque sia è vero che meno corpi istituzionali sono soggetti sono legati al voto e molto più altre forme di nomina questo è un fatto molto preoccupante perché è un decurtamento del nostro potere democratico per quanto riguarda il referendum ci sono delle proposte in questo senso ce ne sono moltissime anche all'interno del gruppo dei saggi dove ero lo scorso anno e molti la stragrande maggioranza era a favore di introdurre nella Costituzione le leggi di iniziativa popolare e anche il referendum propositivo poi devo dire che una volta passato il referendum non è poi detto perché sono le leggi di applicazione il problema serio quindi ci sono vari modi per boicottare un referendum basta non applicarlo quindi non è vero ancora un'ultima l'ultimissima forse non so chi era per primo qua c'è una ragazza cambiamo ala dai via cambiamo ala cambiamo ala dai che di qua nessuno ha fatto domande di qua esatto da qualche parte buonasera io volevo chiederle che ruolo ha secondo lei internet nei confronti della crisi dell'ideologia crisi dell'ideologia intesa come crisi dell'ideologia politica e visti anche i movimenti come quello di Grillo per esempio ma anche Renzi in qualche modo si propongono come rottamatori o comunque non ideologici esatto non ideologici internet come strumento non so se sia internet che abbia cominciato tutto questo o la fine delle ideologie chiesa delle ideologie religiose quelle legate alle grosse ideologie insomma comunisti fascisti con la fine della guerra fredda l'erosione della fede di quel tipo di fede forse ce ne sono altre non so se sia internet imputabile di questo ma la facilita senza altro perché è vero che è molto più prosaica tutta la vita politica insomma se Renzi con twitter può comunicare e dirci ah qui va così sono a Roma sono a Parigi sono a Berlino beh questo è quasi mio fratello un mio amico qualcuno vicino a casa mia che mi dice le stesse cose non è più distanza cioè c'è questa idea che non ci sia più distanza grazie a questo e che non ci sia quindi più nemmeno la distanza delle idee lui come me che abbia un'idea o non è completamente irrelevante non so se sia causa-effetto ha capito se questo ma certamente c'è una concausa o concomitanza di fattori notevoli nel determinare questo ma non è vero che non ci sono ideologie ce ne sono tantissime se lei poi lei magari la frequenta guarda un po' anche peppegrillo punto it è pieno di ideologia ci sono tantissime assunzioni ideologiche sì ci sono però è molto facile anche poi non non aderirci sì comunque sì quello che manca è la struttura è diciamo così quasi come tutto il corpo dottrinario come se tutto fosse un strumento esatto ma anche il corpo dottrinario esatto ma anche il corpo dottrinario però secondo me una ideologia c'è prodotta da internet tra l'altro internet cioè è assolutamente cioè il modo in cui viene concepito internet con delle proprietà di fondo è un atto di fede è un atto di fede è una dottrina tra l'altro perché per esempio l'iperdemocrazia di Casaleggio e Grillo ha un testo ha una bibbia tra virgolette che è il vecchio siamo in guerra che col nuovo vinciamo noi si aggiorna ad altri elementi metafisici estetici è una forma di di teologia politica esatto nuova che non ha più il capitale state rivoluzione come testi ma ha questi testi è vero che c'è questo elemento di identificazione fideistica quindi è un'altra ideologia c'è un fine in quell'ideologia nel senso inteso come filosofia della storia no quella lì ce l'aveva era chiaro cioè leggi no quella aveva una direzione questa non c'è direzione ogni giorno si cambia ogni giorno c'è un nuovo twitter ogni giorno c'è una nuova non siamo due no e qual è il loro scopo il loro scopo è realizzare quello millenario ma non è ma non è scritto ma non hanno nessuna Marx aveva costruito un soggetto storico anzi più che storico un soggetto economico storico sociale che partiva dall'inizio della storia e andava questo invece non mi pare che ci sia una lettura di questo tipo è qualcosa di simile però sì forse è più vicino all'ideologia è molto più debole meno articolata meno ricca sicuramente però c'è una visione diciamo da dove veniamo e di dove stiamo andando c'è una visione che non vedo in molti altri partiti forse è la stessa differenza che c'è nel mondo della religione tra una religione e una setta perché la religione ha la sua struttura ben organizzata con tutti la setta invece ha la stessa rapporto con il fedeistico però è molto è vero che può essere questa perché non è che ci sia una filosofia della storia qui è veramente una speranza un'identificazione con ciò che loro in cui credono un po' settari sono noi nel frattempo abbiamo con questo discorso settario io vi ringrazio moltissimo grazie grazie a tutti siamo riusciti a fare come è andata? no come è andata? bene o male? ha visto che c'era del Rio? si c'è? del Rio veramente non ho visto 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 moltissime domande io vengo da grazie a tutti 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 grazie a tutti